Una morte misteriosa in un'abitazione nelle campagne di Serranova, a pochi chilometri da Carovigno, a ridosso della strada provinciale 32, con un uomo che è stato trovato morto nel terreno della sua abitazione dopo l'allarme lanciato da alcuni vicini preoccupati. Attaccati all'uomo, Pier Giuseppe Sorge, classe 1940, originario di Carovigno, sono stati trovati i suoi tre cani, con il corpo che mostrava i segni di un decesso avvenuto presumibilmente da alcuni giorni. In casa la moglie di 80 anni è allettata ed un altro cane di piccola taglia. La donna non è riuscita a dare l'allarme ed è stata soccorsa dai sanitari in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Ad indagare i carabinieri, sul posto anche la polizia locale di Carovigno, i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, il medico legale, nominato dalla procura, e un acarappiacani privato. Ora si attende al rapporto del medico per valutare le cause del decesso, che potrebbe essere comunque di morte naturale.